Tocco verticale interessante, la mette in mezzo, è chiuso? Vediamo se inventa qualcosa. Grande pallone, hanno trovato il go del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro, se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. Sfortunato qui il portiere, pallone è finito proprio sui piedi dell'attaccante che da lì non poteva sbagliare. Ci aveva messo una pezza sulla conclusione precedente, ma non poteva farci niente sulla ribattuta. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Palla interessante dello spazio. Vediamo cosa fa ora, può riscere una polizia interessante. Palla ancora in gioco, pericolo. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. È in buona posizione. Lecce bene la traiettoria qui. Alfredo Donnarumma. Può crossare da lì. Ha provato la girata di testa. Conclusione sul fondo, senza problemi per il portiere. Ci ha provato. Andrà meglio la prossima volta. Passaggio da dimenticare. Passaggio da dimenticare. Palla regalata agli avversari. Posizione questa, giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. Alfredo Donnarumma. Continua ad avanzare. Palla spazzata via. Biglia. Lo vede. Badu. Tiro murato. Cavion. Due minuti ancora da giocare. Vediamo cosa ci riserverà l'extra time. Buona qui la lettura del difensore. è in buona posizione. Si chiude il primo tempo. Squadre che tornano. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Badu. Biglia. Controllano molto bene il possesso del pallone. Sbaglia tutto. Pallone che finisce sul fondo. Interrompe bene l'azione. Intercettando il lancio. Allontana la minaccia. Puccino. Guarda il movimento in area. Ballone perso. Primo tempo incoraggiante. Il suo ha giocato su livelli interessanti. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Ferma l'azione. Recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Decidono di farsi attaccare. Lasciano il controllo agli avversari. L'intenzione è quella di avere poi degli spazi. Alfredo Donnarumma si tuffa e sventa il gol. Occhio al tocco in mezzo. Non corre rischi. Sceglie i pugni. A spazio. Prova. Il miracolo ancora del portiere. Dopo le molte voci di questi giorni, adesso è ufficiale. Bella Rabi è passata all'Atletico Madrid dal Bayern Leverkusen. è sicuramente un buon giocatore che credo avrà un grosso impatto su questa squadra. Ancora un passaggio perfetto. Buon possesso di palla. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. Conquistano una buona posizione e da posizione interessante. C'era la potenza qui, ma il portiere è stato sicuro. non si è fatto cogliere in preparato. Puccino. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta. Al momento giusto, Pier. Interviene proprio all'ultimo e salva. Non rischia e lanza sulla traversa. La sua gara termina qui, a giudicare dai fischi, insomma. Pubblico non è gradito. Effettivamente ci si aspettava di più da lui oggi. Palla messa in mezzo. Ha evitato guai mettendo il pallone in out. Calcio d'angolo dunque. Pallone in mezzo. Voleva essere un tiro, ma è stato un passaggio al portiere. La formazione avversaria può tirare un sospiro di sollievo. Di solito da lì il gol è assicurato. O quasi. E i numeri parlano chiaro, Pier. Guarda un po'. Devono darsi una svegliata. E spingere di più se vogliono creare i presupposti. Quanto meno per arroggiarla. Tirando così poco in porta. Non si va da nessuna parte. Si fanno vedere i compagni. Interrompe l'azione. Concello il faro laterale. Puscino. Chedira. Cross in area. Palla che resta in zona pericolosa. Alfredo Dornarumma. Bisoli. Biglia. Palla in fallo laterale. Spende l'offa. Un solo gol da recuperare per la squadra di casa. Anche se il tempo non è dalla loro parte. Manca davvero poco. Dovranno... Falsa dove stare, Pier. Bene qui il difensore. Ha chiuso la linea di passaggio. Ha riconquistato palla. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Piero. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Manca poco al termine della gara. Partita non è ancora chiusa. Vedremo che cosa ci regaleranno questi minuti finali. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Badu. Bravo qui a smarcarsi. Cerca la rete. Conclusione intercettata. Ancora tre minuti prima del fischio finale. Biglia. Il quarto uomo indica tre minuti di recupero. Pericolo. Ecco il tiro. Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mila per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Io coinvolgo Matteo Barzaghi a bordo campo per sapere quanto manca al termine della gara. È iniziato il conto alla rovescia. Manca un solo giro di lancetta al novantesimo. Ricciamù. Finisce la gara. Tutti negli spogliatori. Squadre che hanno ribattuto colpo su colpo oggi in campo come dimostra anche il punteggio finale. Complimenti a loro per questa vittoria. Hanno saputo soffrire quando c'era da soffrire e ora possono giustamente esultare. Un successo fortemente...